ma mi dicevo acqua di di giorgio acqua di giorno questa è vecchia no io non ho mai pensato ma perché non hanno non ha pensato un bel ragazzo giovane abbronzato bello forte in acqua come alex di giorgio fare una linea cosmetica c'è tempo per quello però mi piace questa buongiorno come buongiorno lei scusa decidiamo che tu fino all'altro giorno buongiorno a te cristo perfetto ma ti vedo sereno rilassato da queste parti di oggi sta sempre bene ma si finanziate i golli insomma cerchiamo qui che c'è tutto c'è tutto allora siamo ostia casa tua praticamente tu sei a roma no 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 nel senso no no vicino casa vicino casa ma tu sei romano adesso la raccontiamo tutti perché c'è un po il globetrotter alec di giorgio è un po globetrotter nel senso che sei finito a globetrotto la globetrotto collo no no non neanche tanto no ti stai trovando bene dove sei molto si a ostia ostia ti ospita momentaneamente a caserta perché siamo finiti a caserta ma abbiamo deciso con gianni gianluca gianni 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 gianluca del fiore capo della niente ma è certo direttore generale gianluca tutti d'accordo allenatore abbiamo deciso comunque avevamo già deciso dopo gli assoluti di dicembre però poi abbiamo deciso di posticipare dopo gli assoluti di primavera mi sono fatto male alla spalla che adesso va meglio adesso va un po meglio da una settimana anche un sapiente terapista non mi dicono se molto bravo facciamo il nome facciamo il cognome lo salutiamo insomma è il suo io dice che sta in turchia sta in turchia si fa però adesso verrà per i sette colli verrà per i sette colli quindi lui ti ha messo sotto 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 tecker sotto tutto quanto abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare di possibili immaginabile e quindi e quindi dal punto di vista della serenità ci siamo ci siamo abbastanza stiamo cercando di recuperare allora senti andrea sabino mi ha detto lui con ballo stefano l'altro quello dei due farà grandi cose perché se si mette un attimo di puzzo buono il signor di giorgio mi fido di quello che dici ma ti devi fidare anche di te stesso perché tu voglio dire c'hai co test guardate che gambe guardati pure cioè tutto quanto è una struttura che secondo me di giorgio va al 30 per cento o sbaglio è una valutazione mia in questi due mesi cioè in questi ultimi mesi sì nel senso che per vari motivi dentro e fuori dall'acqua sì sì va bene non ho potuto dare il meglio di me sai perché andate su trova su in bezzo e scrivete alex di giorgio e trovate tutta quanta la documentazione la rassegna stampa degli ultimi mesi e capite così evito di dirla tutta quanta io no la storia di la storia di giorgio dentro fuori anche per capire perché di giorgio non è al cento per cento ma io ti voglio voglio arrivare lì senti tokyo sarebbe la numero 3 e diciamolo non c'è due senza tre in teoria su tutti gli scaramatici però io penso che io pure si possa fare una alza l'inquadratura io l'ho alzata è più alta di così arrivo 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 al top anche perché ogni tanto lo debbo dire la verità incrocio per piscine la tua mamma che è debbo dire la verità è la mamma più tecnica del mondo del mondo ma non ci sta neanche più in piscina no 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 però più tecnica lei mi dice no perché guarda tornassimo indietro ti farei allenare da mamma mia non credo sia il caso no no oddio lei allenava il basket allenava il basket bene anche dai e lo so il rapporto dei genitori è sempre quello caro alex senti allora abbiamo detto serenità tranquillità sette colli facciamo il possibile e dopo di che c'è un messaggio alla niene cioè un massaggio nel tenue attenzione che c'è anche alex di giorgio sì ma la niene lo sa bene non solo la niene però anche la nazionale anche la guerra si tratta di riprendere una forma che insomma per tanti motivi è venuta a mancare ma è anche una forma diciamo così non solo fisica anche un po psicologica bisogna entrare perché poi fa tutto è tutto tutto trovarsi nel nel librio giusto nell'equilibrio nello zen giusto però ti vedo vedo l'occhio ci siamo no ci siamo ci siamo doveva in vacanza quest'estate non le ho ancora progettate mi hanno chiesto i miei amici un po di di qua un po di però sempre un colpo d'occhio dopo il sette colli si parla dopo il sette colli però sempre un colpo d'occhio al mondiale perché dopo il mondiale c'è sempre una cosa più importante caro caro alex dico bene siamo sempre lì ti seguiamo diamo delle indicazioni ma vedo che rimaniamo su questi schermi rimaniamo su questi schermi ci vediamo prossimamente prossimamente non diciamo con tanta acqua di giù se spargiamola così per aria e sono piscine alla prossima ciao alex